Secondo alcuni siti web, Rosa Perrotta è una modella e un'attrice, conosciuta al grande pubblico prima per aver partecipato come tronista a Uomini, e donne successivamente per aver partecipato all'Isola dei famosi 2018. Nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto l'amore scegliendo Pietro Tartaglione, i due hanno avuto un figlio a luglio 2019 al quale hanno dato il nome Domenico. Non è semplice gestire l'ansia di una mamma soprattutto quando si parla della salute dei propri figli. E Rosa lo sa bene. Infatti, ha più volte ribadito di vivere con molta ansia questi momenti. Achille ha una forma virale che durerà qualche giorno, e per il momento, ha questa febbre molto alta. Quando si tratta della salute dei miei bambini sto davvero male, ed è il mio più grande limite. Pensavo che la mia ansia con il tempo andasse a scemare, però mi sbagliavo. La mia ansia non la perderò mai, ha raccontato l'influencer Rosa, è la dimostrazione che un malessere di un figlio è per una mamma e fra le prove più difficili che si possano affrontare. Se lui non si riprende io non posso stare bene. Ci siamo scampati anche il tamponcino streptococco perché il pediatra ha detto di non farlo. Quindi, dobbiamo solo aspettare che questi giorni passino in fretta. Ha così concluso Rosa.